È stata una mancanza notevole di finanziamenti al nord. Noi della Lega, i parlamentari della Lega, quindi i deputati e i senatori, hanno depositato all'apertura dell'Aula una mozione, la prima in assoluto del 2022, riguarda proprio il bando sulla rigenerazione urbana. Con questa mozione noi chiederemo il voto dell'Aula affinché questo condizioni il Governo all'estensione di questi finanziamenti ai progetti esclusi dal bando, ammessi chiaramente al bando ma esclusi e questi progetti riguardano purtroppo per gran parte quelli del nord e in particolare del nord-est. Deputati leghisti all'attacco loro la prima mozione del 2022 voluta per cercare di rifinanziare i progetti esclusi dalla graduatoria per la rigenerazione urbana. Sono 541 i progetti ammessi ma non finanziati. Di questi, 210 sono stati presentati da 53 comuni veneti. Uno dei problemi legati all'assegnazione dei fondi è l'indice di vulnerabilità calcolato da un algoritmo che tiene conto di sette indicatori che favorirebbe i progetti presentati dai comuni del Sud Italia. Una battaglia, quella dei deputati leghisti, che li vede a fianco dell'Anci, l'Associazione dei Comuni Italiani. Perché tra i criteri che sono stati posti in essere dal governo c'era questo indice di vulnerabilità, un indice Istat, che essendo correlato anche alla densità delle città, propendeva per dare una maggiore attenzione nei confronti dei comuni del centro-sud. Ecco perché noi abbiamo deciso, anche in accordo con Anci Veneto, di intraprendere questa battaglia parlamentare che per noi è fondamentale, che per la Lega è fondamentale.